ciao a tutti oggi vediamo queste spazzoline possono essere di vari materiali questo ad esempio è in acciaio e vengono utilizzate per piccoli lavori di finitura nel modellismo nell'oreficeria nella lavorazione di pietre per pulire i fossili queste ad esempio sono in ottone vengono montate su mini trapani elettrici o manuali queste sono in nylon e potete vedere la diversa forma ad esempio questa disco oppure a tazza oppure a pennello ecco questo qui è la forma a pennello queste spazzoline possono avere diametro diverso del proprio dell'attacco la più grande a 3 mm mentre la più piccola a un diametro di 2,35 mm a seconda dell'attacco del vostro trapanino vediamo inoltre altri tipi di spazzole queste sempre in nylon molto molto delicato questo invece è di un materiale sintetico tipo pelle che quindi non va a graffiare o addirittura in cotone queste invece sono scotch bright di diverse robustezze e queste servono proprio per pulire come le spugne per lavare i piatti a seconda del colore cambia la robustezza dello scotch bright tutto questo lo troverete sul nostro sito elettronicadidattica.com che vi consiglio di andare a visitare inoltre vi chiedo di continuare a seguirci e iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto elettronica didattica ciao a tutti a presto a presto